Ciao! Conoscete Valerio Antonini? Ipotizzo di sì, o comunque se no hai massimo, ho come la vaga sensazione di qui e qualche mese, massimo anno, ma io credo mese, lo conoscerete. Presidente di Trafani, una delle più serie candidate alla promozione in Serie A, qualche tempo fa ha detto Petrucci, uomo di un'intelligenza e di una preparazione, soprattutto di una conoscenza del fenomeno gestistico come pochi, però purtroppo chi gli sta intorno non consente di arrivare a sviluppare il fenomeno basket come meriterebbe. E allora io mi sono chiesto, ma perché? Chi gli sta intorno? Cioè no, perché magari noi siamo qui che tutte le volte Petrucci, Petrucci, però invece potrebbe anche essere che Petrucci è circondato da una manica di scappati di casa. Sono andato a vedere sul sito della FIP. A parte la gerarchia bella e segnalata dalla grandezza della fotina, sotto Petrucci abbiamo due presidenti onorari e due vicepresidenti. Meneghin è semplicemente l'essere umano che ha vinto più scudetti nella storia, tra le tante che ha fatto. Ma Ifredi era il presidente della FIP l'ultima volta che si è vinto una medaglia d'oro, se non mi ricordo male, con la nazionale. Casarin più volte premiato miglior dirigente della Serie A. E poi c'è la signora Gonnella, che magari non avrà, diciamo, la carriera altisonante dal punto di vista dei riconoscimenti, dei colleghi sopracitati. Però comunque è una persona che ha passato, ha trascorso una vita nel basket. Io ho dei dubbi che sia tutta colpa sua. Signora Gonnella, è tutta colpa sua. Ce lo dica, Margaret, ce lo dica, se è tutta colpa sua. Saremo clementi nel caso. Ma io ho dei dubbi. MVP, miglior giocatore di giornata, Miro Bilan. Quando io dicevo un po' di tempo fa che Brescia avrebbe dovuto ricominciare a picchiettare il pallone dentro per Miro Bilan, a dargli più palloni sotto canestro. E a questo mi riferivo. Era un po' che Brescia questa cosa se la autolimitava. Più di 40 di valutazione, quasi tripla doppia e soprattutto mi ha ricordato per l'ennesima volta perché io adoro questo sport qui. Perché c'era un cristiano che pareva a batantuono quando faceva Attila, flagello dell'Uni, che era enorme, arto, grosso, che ti sarta come Skylar Spencer, che non ci ha capito niente contro uno secchino, un po' pelato, gobetto, che ha il confronto pare a Mr. Magu come Miro Bilan. La pallacanestro. Miglior italiano, Nico, me non veniamo fuori. È forse la prima volta, o una delle, che premio uno, la cui squadra ha perso. Ma non me ne può fregare di meno. Perché questa partita qui è stata, secondo il mio modestissimo parere, la partita più bella dell'anno. Comunque una delle più belle, una di quelle che mi ha intrattenuto di più, una di quelle dove si è visto il basket più. E quindi, Nico Mannion ha giocato, onestamente, io, se fate una colletta per tenerlo il prossimo anno a Varese, io giuro che partecipo, con quello che le mie finanze va, però io giuro che partecipo. Se poi, putacaso, fosse anche tratta la tripla da metà campo per l'overtime, che tra l'altro sarebbe stato il quarantesimo punto nella partita di Nico Mannion, io penso che dalla panchina si sarebbero alzati Meneghin, Santiago e Zanus Fortes per completare la rievocazione storica. Treviso Pesaro Di Angelo Harrison perché a un certo punto la partita è diventata una lotta senza quartiere e a quel punto lì chi ha più delinquenti vince. Ma delinquenti nel senso buono, delinquenti nel senso più genuino, più sano e più sportivo del termine. Cioè, giocatori spregiudicati, capito? Gente che non guarda in faccia a nessuno, che se c'è da prendersi una responsabilità. E Treviso non aveva di più. Bowman e Harrison, nello specifico. Bowman però si è fatto fregare con il quinto fallo. Harrison, oltretutto, è reduce da una stagione in cui per tre quarti di tempo hanno voluto la testa sua e di chi l'aveva firmato. Quindi voto Harrison. Anche perché Polyhub, onestamente, ponci ponci po po po. Justin Wright Foreman si è visto probabilmente una delle migliori pesero dell'ultimo periodo, come ampiamente pronosticato nella live precedente. Però utilizzare così Justin Wright Foreman, cioè come giocatore di contorno, come elemento aggiuntivo, e non come go-to guy, come leader del gruppo dal punto di vista offensivo, cioè quello che manovra ufficialmente l'attacco, lo rende abbastanza inutile e a tratti anche dannoso, come nell'occasione dell'ultimo possesso. L'utilizzo di Justin Wright Foreman, secondo me, rischia di essere l'ultimo errore di una stagione abbastanza piena di errori. Tipo presentarsi alla partita forse decisiva per la salvezza, senza lunghi, con Polyhub che pare hanno ziche da quell'altra parte. Tortona Cremona. Luca Severini. Ci hanno provato in tutti i modi a ostacolarne la crescita. Prima con Mike Dome, che effettivamente era più forte, è più forte di Severini, poi con Aminua, che secondo me se la battano, ma anzi forse forse piglierei Severini. Anche con Basile, preso e poi dirottato da altre parti, però non c'è niente da fare. Cioè quando vali il campo, primo o dopo ti premia, ti fa venire fuori. Purtroppo, per quel che ci riguarda, gli mancano sempre quei 7-8 centimetri boni per poter fare i 5 in pianta stabile. Però questo è. Se ce l'avessi avuti, non sarebbe potuto essi italiani. Sarebbe stato Luke Littlesterns. Capito? E sarebbe costato l'ira di Dio. So contento del rinnovo di De Raffaele, se lo merita, però se si vuole proprio essere sinceri, con questa squadra qui, a che Ramondino avrebbe fatto un pochino me. Cioè, diciamolo. Diciamolo. Corey Davis. Non tanto per colpa sua, quanto per come viene usato. Io non penso che faccia la fine di Zegarowski, perché non ci sono i tempi affinché da qui alla fine dell'anno possa implodere su se stesso come Zegarowski. Però di fatto quella sarebbe la deriva. Non puoi prendere un americano e usarlo in questo modo qui, 20 minuti tra sì e no, tra spizzi e bocconi, magari anche in uscita dalla panche. non sono tutti De Negri. Cioè, gli americani non reagiscono come reagisce De Negri. Questo platoon system, a me sinceramente non mi ha mai convinto, lo sapete. All'inizio funzionava, alla lunga è una roba che secondo me va un pochino ragionata, anche per pensare a Cavina per la prossima stagione. Certo è che non per questo bisogna pigliare e espellerlo come è stato espulso Cavina, a lui, ai su Gm, ai Presidente e a tutta la vostra famiglia, come il mostro di Benigni. Insomma, eh. Napoli-Venezia. Le percentuali. Perché se no rifasserà tutte le settimane con Zubcic mi pareva brutto. In linea generale, con Napoli che tira sotto il 20% da tre punti di squadra, non puoi vincere contro Venezia mai. Cioè, proprio manco a un altro sport. Bisognerebbe poi anche un attimo andare a vederle, queste percentuali, a vederli questi tiri, e magari ci si renderebbe conto che non sono entrati mai, nemmeno per sbaglio, però la maggior parte erano comunque abbastanza ben costruiti. Io, prima di parlare così insistentemente di mancanza di stimoli per questi giocatori da qui alla fine della stagione, magari proverei anche a ipotizzare un po' di stanchezza, forse, perché comunque Napoli giocano in otto di cui almeno due nella categoria sbagliata. uno sicuro nel mezzo. Mefiondu Cabenghele, perché gli è proprio passato sopra dal punto di vista fisico, con Owens con qualche problematica di falli, Cabenghele proprio non aveva modo di poter, non avevano gli altri un corpo per potergli mettere addosso, e quindi lui schiacciate, stoppate, panciate, fisicità, è proprio, cioè, ha dominato in lungo e in largo. Io, però, gli voglio un grande, sapete che Cabenghele per me non è un giocatore come tutti quell'altri, ma nonostante questo, se fossi in uno degli addetti ai lavori della Reier, piglierei lui e Heidegger da una parte e gli direi, oh, proprio, oh, non è che siccome non siamo più nell'anni 90, allora vi potete pensare di fare, perché in Italia atteggiamenti di genere non si possano tenere, altrimenti prima o dopo lo trovate il Dalibor Bagaric che ve lo spiega in maniera un pochino meno educata ed edulcorata del sottoscritto. Trento Scafati Saliu Niang perché la partita l'hanno vinta Baldwin e Munei soprattutto, però i rimbalzi decisivi nei possessi che contavano l'ha tirati giù lui e siccome stante l'infortunio di Graciulis è molto probabile che da qui alla fine giochi anche sempre di più occhio! Io guarderò con molto interesse Trento da qui alla fine della stagione. Per giocatori del genere il nemico numero uno in NBA sono gli infortuni. Hai sempre paura che dei giovani con così tanto potenziale si possano far male. Da noi il nemico pubblico numero uno sono le panchine. Dice perché ci sbattano in mignolo di piede e si infortuniano? No, perché vengono presi dalle bighe e ci vengono messi a sedere a muffire. Matteo Bonicciolli a fine partita ha parlato giustamente anche secondo il mio punto di vista delle percentuali ai tiri liberi perché in una partita punto a punto contro un avversario del genere se sbagli 11 tiri liberi è evidente che poi la cosa ha un peso importante però non ha parlato secondo me colpevolmente di altre questioni anche oltre a quella tipo il 20 e 20 dei centri ancora il fatto che in un anno Scafati ha firmato tre o quattro squadre di playguardia cioè se firmi tutti quei playguardia e li roti così a ritrecine senza continuità di causa è abbastanza normale che poi alla fine delle partite quando si gioca per vincere la squadra non sappia come a chi che non abbia punti di riflessione non sa mai chi c'è chi gioca chi non gioca no questa è una cosa che io abborro da qualsiasi punto di vista non lo so fosse per me Nanji Pinkins Rivers Rossato Robinson Gentile Henry stop sette una partita a settimana tutti baldi ai stop finiti lì sotto con gli insulti nei commenti brindisi sassari le percentuali che però a differenza di Napoli derivano più dal fatto che magari i giocatori hanno sentito l'importanza della partita su questo però che ci puoi fa onestamente se vuoi tirar fuori dai giocatori il meglio di loro stessi gli devi spiegare l'importanza della retrocessione perché nella loro cultura non ce l'hanno se glielo spieghi loro la capiscano e a quel punto sentono la pressione è inevitabile su questo non ci puoi fare niente puoi fare su altre cose tipo il 20 e 20 dei c'è per esempio no una ma questa ormai è una mia battaglia dicevo vedi che poi quando parli ti finisce anche la pila perché non ne puoi più di sentire parlare Sakota dice ribadisce sempre che lui non è mai retrocesso ed è vero ma al di là di questo secondo me non meriterebbe neanche quest'anno di retrocedere per quello che ha fatto la sua squadra da quando c'è lui qualche errore però non meriterebbe il fatto è che questa squadra ha giocato fino a dicembre con un gruppo di serie sci B vogliamo di B B va Nanad Markovic perché io e lui siamo sempre più allineati la pensiamo sempre allo stesso modo ultimamente sono molto contento di questo prima nel periodo della Coppa Italia lui ha scelto di non fare uso del mercato nonostante ci fosse la possibilità e questa cosa secondo me ha pagato io ero d'accordissimo poi ora nel periodo di rientro di Benzius ha scelto di non affrettare i tempi del rientro anche per non minare la chimica del gruppo e io ero d'accordissimo e poi alla fine ha deciso ha scelto anche che poteva andare bene rinunciare a Stefano Gentile e io sono ancora più d'accordo con lui tra l'altro fosse per me io non lo cambierei neanche non lo sostituirei neanche perché per una squadra che da ora alla fine giocherà una partita a settimana Cappelletti e Jefferson in cabina di regia sono più che sufficienti con in guardia Tyree qualcuno degli altri due che guadagna qualche minuto da guardia e Krojlin che gioca per motivi che io continuo a ignorare forse per me io non lo sostituirei e se lui la vede come me si vede subito perché in settimana i tifosi della Dinamo lo spettinano a me non lo possano fare per ovvia mancanza di materia prima ma a lui Reggio Emilia Milano Tarik Black ne dico tante perché sono chiamato a farlo qui sul canale ma di tante che ne dico a volte qualche d'una la piglio settimana scorsa quando avevo detto andiamoci cauti perché ha giocato bene ma ha giocato contro nessuno e questa settimana che davanti qualche d'uno c'era è risparito un'altra volta ok io me l'aspettavo vediamo mi interessa è giusto perché comunque sotto canestro ora come ora Reggio Emilia Dolton Homs o non Dolton Homs io non credo a questo punto che venga però mai dire mai mi sembra comunque bella che piazzata sono più interessato a sapere come sta Weber non dovrebbe essere niente di particolare però secondo me è molto più importante perché ipoteticamente senza Weber Reggio perde metà della garra e dell'intensità difensiva della squadra e i 100% della Tamarreide tra l'altro Stefano Tonut perché quando gioca bene visto che purtroppo quest'anno non succede tanto di frequente secondo me vale la pena sottolinearlo per il resto io sono molto poco interessato a questo finale di stagione regolare dell'Olimpia Milano perché come detto nella live di settimana scorsa ero stato facile profeta ma no perché so bravo io ma perché troppe volte ormai sono rimasto fregato quest'anno da questa squadra e quindi non ci casco più siamo ancora un po' in alto mare dal punto di vista la settimana è imbattuta però poi hai visto come è andata a finire la cosa interessante la cosa interessante secondo me da qui alla fine è capire chi sono gli otto che Messina perché quelli sono che Messina sceglierà per i playoff e sinceramente io al momento dovessi scegliere il neotto sarei ampiamente in alto mare faccio un esempio Denzel Valentine io sono andato a controllare perché a un certo punto ho detto ma non è che l'hanno firmato ieri e magari io in questo periodo l'NBA le cose le feste l'ora legale ho perso la cognizione di tempo perché se l'avessero firmato ieri oggi 2 aprile ci potrei stare ma invece no settimana quella prima che fine ha fatto? Varese Brescia Michael Gilmore ma veramente Varese l'ha corteggiato per Messi una trattativa che è andata avanti faticosamente rilanci contro i rilanci tra l'altro una delle voci del contendere a un certo punto sembrava essere la possibilità di fargli questo contratto famoso pluriennale Peavello anche i prossimi ma chi lo piglia? Jenny Sands io magari ho visto male però è così anche Besson la prima partita l'ha giocata per quell'altri io me lo ricordo però quantomeno la voglia ce l'aveva lo vedevi era uno molto intraprendente molto Gilmore che c'ha a parte nonno forte dico che c'ha Jason Barnell l'introduzione di Barnell a questa squadra all'innesto in questo gioco ha richiesto più tempo del previsto di quello che io anche mi immaginavo però ora che piano piano si sta ricominciando a vedere il vero Jason Barnell ci si rende conto del giocatore che era e che è tuttora e di quello che può dare che sta dando a questa squadra squadra che tra l'altro è la squadra la ex squadra di David Moss del quale lui può essere in un certo senso l'erede spirituale non solo perché gioca lo stesso ruolo ma perché potrebbe provare ad apprendere io lo manderei proprio a scuola da David Moss capito per provare a carpire qualche trucco del mestiere sul campo sul campo perché fuori dal campo io non credo che un altro essere vivente potrebbe sopravvivere alla vita di David Moss però sul campo Bologna Pistoia Luca Banchi fa un po' specie per il sottoscritto che Luca Banchi lo conosce molto bene non leggere non sentirlo prendersi le responsabilità di questa sconfitta non perché cambi niente non è che quando l'allenatore dice mi assumo io responsabilità della sconfitta allora ti ridanno i due punti in classifica non cambia assolutamente niente però per come lo conosco me lo sarei aspettato perché secondo me lui ha una grossa responsabilità cioè la Virtus era talmente forte a un certo punto era talmente avanti e talmente in controllo che io mi sono addormentato c'era il pranzo di Pasquetta e quindi però io mi sono abbioccato e si è abbioccata anche lei però anche la Virtus stessa tant'è vero che Pistoia è rientrato e ha vinto è rientrata e ha vinto cioè è un allenatore però queste cose le deve subodorare le deve percepire deve fermare si fa spell faccia qualcosa ma non può consentire una roba di genere anche con le rotazioni troppo secondo me Zizic in panchina quando stava letteralmente dominando sotto canestro perché Uwey non ci aveva capito niente ah che Teberinelli l'ha ributtati dentro all'ultimo quando si è avvisto male cioè da un allenatore io mi aspetterei in questo senso una delle poche sconfitte in generale nella stagione della Virtus perché va ricordato in questo periodo particolarmente negativo poche sconfitte della stagione della Virtus però una delle poche che io personalmente attribuisco a banchi io poi dice chi se ne frega va bene però io Ryan Hawkins titolare riserva sano rotto 20 minuti 40 minuti avanti di 30 sotto di 30 lui continua sempre a fare le sue lui ha questa caratteristica che è la mentalità che troppo spesso viene sottovalutata nella palla canestro di oggi sotto di 20 lui continuava a fare finta palleggio arresto tiro sotto di 10 finta palleggio arresto tiro appari finta palleggio arresto tiro l'ha vinta lui in questo modo qui e non è la prima volta che succede quest'anno a Pistoia un giocatore che in altre squadre sarebbe già stato messo in panchina e questo in parte l'ha fatto anche Pistoia giustamente però perché serve questa cosa qui nel lavorare con i giocatori sarebbe già stato scambiato mandato via turnoverato messo come assicurazione e invece no Pistoia non l'ha fatto ci ha lavorato l'ha fatto crescere se esistesse un campionato con tutte le squadre a pari budget tutte 16 secondo me Pistoia farebbe il grande slam sono convinto a Pistoia il grande slam suonare a Pistare a Pistoia di inscrizione che o a Pistare a Pistare a Pistare a Pistare Grazie a tutti